La prestazione è stata più che buona, il risultato sicuramente non rispecchia l'andamento della partita. Sapevamo di incontrare un'ottima formazione, i numeri parlano chiaro, però c'è molto rammarico anche in considerazione che alcune decisioni arbitrali ci hanno lasciato perplessi. Una squadra che non aveva grandi nomi, sicuramente si lotta per il campionato. Noi lottiamo per fare più vittorie possibile, poi alla fine del campionato tireremo le somme e vedremo che tipo di classifica andiamo a realizzare. Sicuramente abbiamo un buon organico, una buona squadra, oggi abbiamo dimostrato che siamo alla pari dell'Arcolanese e vedremo più in là cosa deciderà. Oggi abbiamo fatto, secondo me, a mio avviso una delle migliori partite qua al Solaro. Abbiamo avuto la squadra corta per tutto l'arco della partita. È normale pure che quando una squadra come il Gela, che comunque annovera persone e calciatori importanti, compreso l'allenatore, praticamente puoi rischiare dieci minuti. Ci siamo leggermente abbassati al secondo tempo, però poi dopo abbiamo ripreso campo, le linee di passaggio erano corte, i reparti erano sincroni, per cui alla fine, quando poi non sbagli niente, viene fuori la gran partita con il grande risultato. Perché oggi, a mio avviso, i miei calciatori hanno fatto un gran risultato, battendo un Gela che comunque andava per il campionato.